Non è alternativo a nessuno, non vogliamo essere alternativi a nessuno, vogliamo essere aggiuntivi a tutti. In questa regione si è cominciato a vincere quando oltre Forza Italia, la Lega Fratelli d'Italia, tante persone sono tornate a far politica, sono tornate a farlo dalla nostra parte politica, con tante liste legate al sindaco Bucci, legate al sindaco Peracchini, al sindaco Caprioglio, al sindaco Ponzanelli. E tutte queste persone hanno fatto quella vera differenza che ha portato nei numeri la Liguria ad avere i governi di centro-destra nel 90% dei suoi territori. Quindi siamo assolutamente aggiuntivi, siamo il tessuto connettivo che tiene insieme una coalizione che è coesa e che ha un programma che ha presentato agli elettori e che porteremo fino in forza.